Nardi è un'azienda che si occupa da 20 anni di arredi per esterno che coniugano funzionalità e design. Il polipropilene accompagna da sempre la storia della nostra azienda. Nardi ha studiato a fondo e riteniamo di saperlo interpretare ai massimi livelli. Il percorso di design trapreso negli ultimi anni ha portato Nardi a esplorare nuove frontiere tecnologiche proponendo il polipropilene inabbinato ad altri materiali e novità assoluta di quest'anno anche agli imbottiti. Sono nate in questo modo differenti collezioni per il mondo del contract e del consumer. La scelta precisa per il futuro punta al consolidamento del marchio in tutto il mondo e alla continua tensione verso l'incremento della qualità dei prodotti attraverso scelte produttive esclusivamente made in Italy. Aria è prodotta in polipropilene, un materiale plastico che ha delle ottime caratteristiche per l'esterno. Infatti non ha bisogno di manutenzione, non ha bisogno di cure particolari. Allo stesso tempo comunque ha notevoli difficoltà per quanto riguarda le sezioni più massicce che qui sono tenute grazie all'iniezione assistita a svuotamento gas. Aria si rivolge a un pubblico eterogeneo dall'interno all'esterno. È uno stile sobrio che può coniugarsi con ambienti decisamente molto diversi. Aria. Grazie a tutti.